buonasera a tutti ragazzi allora partiamo con il discorso di inter verona inter verona che l'inter vince 2 a 1 ha fatto una grandissima partita secondo il mio punto di vista il verona ha avuto se no tre quattro occasioni per diciamo fare qualche tiro in porta e diciamo l'azione più pericolosa che ha fatto è stato il calcio di rigore che gli hanno dato che secondo il mio punto di vista poteva anche non vanno comunque l'hanno dato almeno così quelli della trasponda di di torino di milano evitano di lamentarsi perché all'interno non non gli danno i rigori contro eccetera 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 gli hanno dato uno generoso stasera l'hanno segnato poi alla fine igu facci sarà scompesa nelle nel diretano ok un primo tempo che l'inter ha dominato ha avuto quattro palli gol nitide però purtroppo noi ci siamo riusciti a a buttarla dentro un po per delle ottime parate delle potere del verona un po per gli errori nostri insomma il primo tempo è andata sul vantaggio del 1 a 0 del verona anche se l'inter non meritava nel secondo tempo i primi dieci minuti l'inter attaccava 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 infatti ha trovato il gol del del 1 1 una bellissima azione bastoni lazaro cross in mezzo testa di vecino 1 1 e insomma ragazzi bastoni si si fa vedere che è un grande prospetto oggi ha fatto una grande partita ha avuto personalità è andato anche al tiro poteva segnale poi il portiere della presa e ha fatto ci ha costruito ha costruito lui l'azione del 11 con un gran lancio millimetrico per lazaro lazaro stop cross in mezzo vessino zucata 11 vessino ha fatto una buona partita non non ha fatto nulla di che possiamo dire che diciamo il suo 66 e mezzo lo prende tutto con il gol poi l'inter dopo l'11 inizia attaccare proprio seriamente e trova il gol del 21 all'ottantaduesimo con un grandissimo 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 gol di nicolò barella che ha fatto un tiro a giro ragazzi che parliamone perché è fortissimo poi ci sono c'è gente che che lo critica è strapagato tutto quanto si fa del genere io gli ho anche cento di milioni datemi a retta e l'inter va in vantaggio 2 a 1 quando l'inter proprio poteva benissimo adesso anche 3 4 a 1 cioè tra il primo tempo secondo tempo ci siamo mangiati una valanga di gol l'importante era vincere l'importante era portare a casa i tre punti ce l'abbiamo fatta e insomma contento per almeno per stasera davanti alla juventus e domani aspettiamo cosa fanno juventus e milan cioè io 20 milan io mi auguro un pareggio almeno così guadagniamo un punto cioè un punto solo sulla juve e 2 vabbè il milano ormai è a 18 punti massimo che vai vai a 17 ok perciò il milano l'abbiamo perso da namo però una cosa che voglio dire ragazzi è una cosa che mi ha veramente fastidio la telecronaca di sky io non so che partita hanno visto cioè un ottimo verona non ha fatto un tiro l'importa l'unica occasione hanno segnato per diciamo un atterramento di andare invece sul giocatore del velone che poi per me sia per me si è buttato però comunque il grado calcio dei rigori va bene hanno segnato va bene intanto abbiamo preso i tre punti e alla faccia alla faccia loro si vede che sia bergomi che il anzi il rinnegato di bergomi ex capitale dell'inter ti fa contro la sua ex squadra ok caressa non ne parliamo e va bene così da oggi in poi ho voluto provare per sentire un po che cavolati dicevano su sky e non metterò quando l'inter gioca su sky metto solo scarpini perché veramente loro due fanno veramente schifo veramente veramente schifo poi l'ultima cosa e poi più del video ragazzi come fate a criticare ducaco ducato ha fatto 9 gol in 11 partite cioè a gli stessi gol di ronaldo e lo criticate e poi ci sono i fenomeni che che vogliono ancora riccardi ma veramente c'è ragazzi avete rotto le palle con questi cari e luca compara carlo lukaku di quadro cacudia intanto se non c'era lukaku a bologna non non vincevi ok fa gol pesanti gioca per la squadra nel secondo tempo era impossibile togliere il pallone perché usava il fisico e se la squadra ha ci dato bene e anche merito merito suo perciò state zitti non rompete le palle con costi caldi perché veramente ce ne avete fracassate ok dico solamente questo lasciate la ricomentate iscrivetevi al canale condividete il video e gufi andate la pianta al culo ciao